Il 14 settembre si torna a scuola. Mai come quest'anno il ritorno sui banchi accende il dibattito politico. Lo scontro è aspro, sia a livello nazionale che locale, su come garantire la sicurezza di studenti, docenti e personale scolastico. Il centrosinistra pescarese ha indetto un consiglio comunale straordinario, che si terrà il 4 agosto all'ex aurum. Per verificare a che punto siamo sull'edilizia scolastica, sui trasporti scolastici e sulla riflessione, ma soprattutto per aprirci alla cittadinanza, alle altre istituzioni, quindi i dirigenti scolastici e alle associazioni e ai genitori, quindi a tutta quanta la comunità scolastica. Il consiglio e soprattutto la giunta e il sindaco non possono prendere delle decisioni chiusi nel palazzo. La cosa peggiore che ho ascoltato è appunto il creare delle aule all'interno delle palestre e togliere uno spazio davvero utile per l'attività educativa. E quello che mi ha stupito nel vedere la variazione di bilancio è stato il togliere tutti quanti i fondi previsti dall'ordinaria amministrazione sulla manutenzione scolastica. Sono stati tolti questi fondi perché c'era la certezza dei fondi ministeriali, senza appunto considerare che questi fondi ministeriali erano in più ed erano soprattutto mirati all'adeguamento di nuove strutture, quindi non all'adeguamento delle strutture esistenti. Qualche settimana fa era montata la protesta dei sindaci contro il governo. Scaricano tutta la responsabilità su enti locali e istituti scolastici. Questa l'accusa da parte di alcuni primi cittadini. Sicuramente hanno più responsabilità ma perché hanno la possibilità di amministrare direttamente i fondi. Quindi non ci sono più passaggi. I fondi dal ministero sono arrivati direttamente al nostro sindaco, quindi direttamente ai sindaci. I sindaci hanno la possibilità di utilizzarli. Ovviamente devono assumersi delle responsabilità tenendo presenti le reali necessità del territorio. Di fondamentale importanza per quanto riguarda la riapertura delle scuole il tema del trasporto pubblico. Tra le proposte di TUA, quella di istituire corsie preferenziali per i bus, come ad esempio la cosiddetta strada parco a Pescara. Il centro-sinistra rivendica la mozione sul traffico bocciata dal Consiglio Comunale. Avevamo presentato una mozione che portasse l'impegno da parte del sindaco e della giunta di creare un piano traffico ovviamente in relazione al Pums che abbiamo attivo e che è stato avviato dalla precedente amministrazione. Allora la bocciatura di questa mozione dice tanto e mette ancora di più in evidenza delle contraddizioni che sono interne alla maggioranza. Grazie 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 Grazie